Avanti, ragazzi, dobbiamo sbrigarci! Oh cielo, non riuscirò a cuocerli tutti nella friggitrice. Sarà meglio usare anche qualche tegame. Eh, mamma, se tu stendi l'impasto, noi gli daremo la forma. Ottima idea, James. Oh, ma non toccare il peperoncino, ti prendo dei guanti. Dunque, dove ho messo i guanti? Oh no! Veloci ragazzi, uscite! Dobbiamo chiamare il coppiere, Sam! Bronwyn stava preparando i suoi snack di fuoco e ha incendiato la trattoria del pesce intero. Bronwyn stava preparando i suoi snack di fuoco e ha incendiato la trattoria del pesce intero! Presto, signori, evacuate la zona! Tranquillo, Sam! Vi do una mano! Il pompiere, Sam, ha bisogno di rinforzi! Allora fatti volere, fratellino! Oh, che succede adesso? Venite, ragazzi! Qui starete al sicuro! Mettiamoci al lavoro! Ricevuto, Sam! State tutti bene? Io sto bene! Sì! Sì, stiamo bene! Vai! Va giù! Ellie! Tu spegni il gas e io l'incendio causato dall'olio! Ricevuto, Sam! Vi ha suspenso, Sam! Grazie, Ellie!